Musica Benvenuti sul canale qui, è Kratos25 Allora ragazzi, oggi per me è sabato 11 agosto e ho potuto presenziare all'anteprima italiana di un film che aspettavo moltissimo un film del 2018 per la regia di Peyton Reed ed ovviamente Ant-Man and the Wasp il ventesimo film della Marvel Allora ragazzi non posso dire che il primo Ant-Man sinceramente mi sia piaciuto tantissimo insomma l'ho trovato abbastanza una commediola bellissima la trama, bellissimo come sono riusciti a rendere non mediocre l'uomo formica come hanno introdotto anche il Marvel Cinematic Universe questo macro-universo appunto, anzi micro-universo più che altro in realtà è sia macro che micro e adesso sono qui per parlarvi del sequel del film che sinceramente mi è piaciuto molto di più allora prima di iniziare vorrei mostrarvi che per l'anteprima mi hanno regalato questa spilletta più che altro è una moneta eccola qui, ve la mostro e devo dire che sono veramente soddisfatto del fatto che un'opera del merchandise ha lo stesso voto del film ovvero io questa moneta darei 8 e anche a questo film sinceramente darei un bel 8 preciso subito che non è uno dei migliori film del Marvel Cinematic Universe perché so già come la gente pensa e per te che sei solo un fan ogni film è meglio del processore no, sinceramente no riconosco che questo film ha alcuni difetti però devo ammettere che è molto molto più bello del primo film di Ant-Man per me personalmente e adesso sarei qui per parlarvi soprattutto delle mie impressioni diciamo non solo del lato oggettivo ma anche delle mie impressioni allora ragazzi a cominciare dalla regia la regia devo ammettere che è molto migliorata rispetto al primo film certo nel primo film si vedeva che c'era un approccio più artistico da parte di Peyton Reed però forse ha capito che la sua visione non sempre rende accattivante il prodotto difatti cosa le crimino Ant-Man e Wasp cioè al primo Ant-Man scusate confondo i titoli il primo Ant-Man secondo me è abbastanza soporifero cioè belle le scene d'azione bellissimo il concetto di micro-universo delle formiche parlare con loro eccetera però sinceramente mancava quella scossa di adrenalina secondo me mancava proprio l'essere già buttati al centro dell'azione ho capito che era un primo capitolo formativo diciamo però sinceramente si poteva fare molto di meglio difatti è un film soporifero a mio parere questo film Ant-Man e Wasp è soporifero ma non perché è noioso perché è proprio calmo difatti il vero di questo film è che dopo Avenger Infinity War che sinceramente me lo faceva venire duro ogni 4 secondi e soprattutto avevo le vene e i nervi tesi come una corda di violino questo film prima di Avenger 4 e Captain Marvel secondo me era proprio quello che ci voleva ovvero un tranquillante un film che facesse da intermezzo a questi progetti importantissimi perché anche Captain Marvel che è il prossimo film stand alone della Marvel sarà importantissimo e sarà al pari forse di Infinity War se non forse anche più importante ma no non credo però questo Ant-Man e Wasp serviva proprio da freno serviva praticamente da tranquillante per lo spettatore ancora in fibrillazione per Infinity War questo film ha molti riferimenti a Infinity War però effettivamente non così tanti da farti capire che è importantissimo certo è importante per quel che accadrà però è importante anche per frenare e questo mi è piaciuto la regia l'ho trovata molto migliorata rispetto al primo capitolo Reed sembra abbia imparato la lezione e infatti in questo film non ci si annoia un secondo a mio parere le battute sono veramente ben contestualizzate perché il concetto in sé il film è un po' tragicomico però ci si riesce si prende le sue parti come ogni film del Marvel Cinematic Universe sul serio e poi ci sono le parti comiche un po' come i Guardiani della Galassia e adesso parliamo degli attori Paul Rudd che ritorna a interpretare Scott Lang ovvero Ant-Man devo ammettere che mentre nel primo film mi sembrava un personaggio abbastanza scialbo abbastanza non proprio immedesimabile in questo film ho imparato a farmene una ragione non ha secondo me un chissà che dispessore incisivo cioè non è incisivo secondo me come gli altri personaggi tipo Iron Man, Cap o Doctor Strange Doctor Strange anche se è nuovo nel campo della Marvel dei film intendo mi sono legato molto di più a lui piuttosto che a Scott Lang però mi è stato simpatico me ne sono fatto una ragione non è che abbia insistito a trovare un qualcosa che me lo facesse ricordare qualcosa che fosse memorabilissimo mi è piaciuto e basta il suo personaggio puoi vedere anche le sue interazioni comiche con Evangeline Lilly che ritorna a interpretare Wasp secondo me però è troppo ecco se devo parlare di Wasp lei è un po' troppo fissata con il concetto di Kate Austin di Lost la Lilly cioè è proprio su quell'approccio l'approccio Kate di Lost sempre badass sempre seria a volte si fa delle battutine però è sempre fa battute contro voglia diciamo il personaggio è sempre su quel binario ma il suo personaggio mi è interessato molto di più rispetto al primo film a parte che adesso la trovo molto più bella coi capelli sciolti in stile Lost e devo ammettere quindi che il suo personaggio mi è piaciuto poi direttamente dal primo film ritorno ovviamente Michael Douglas o forse dovrei dire il nonno di Michael Douglas perché si ormai ammettiamolo fin dal primo Ant-Man si era capito che non avrebbe avuto un ruolo action diciamo cioè in questo film Douglas ha fatto molto più di quanto mi aspettassi senza spoilerare però devo ammettere effettivamente che si vede che invecchia Douglas la sua recitazione non invecchia mai è sempre bravissimo a recitare però effettivamente si vede che le ossa diventano di carta pesta difatti se nel primo film non combinava niente in questo film combina qualcosa ma si vede che è troppo macchinoso i suoi movimenti non sono più quelli di una volta però vabbè non mi aspettavo Basic Instinct e no devo ammettere che il personaggio di Douglas l'ho trovato molto più approfondito in questo film a parte che il tema centrale è riportare Michelle Pfeiffer ovvero la prima wasp la wasp originale nel nostro tempo e soprattutto nel nostro mondo dato che negli anni 80 è rimasta imprigionata nel regno quantico era interessante vedere come si sarebbe approcciato a questa missione a questo discorso visto che è più che altro affrontare i propri demoni mi è piaciuto veramente molto poi abbiamo Anna John Cayman che sarebbe il personaggio di Ghost il nuovo antagonista ecco qui torniamo sempre un attimino nella solita politica dei villain eccetto Thanos e Killmonger io speravo che ormai avessero capito quelli della Marvel che forse e sottolineo forse sprecare i suoi attori migliori come per esempio Mads Mikkelsen che interpretava Cacillus nel film di Doctor Strange è un po' male perché per esempio Cacillus è una macchietta stereotipata e per fortuna con Killmonger erano riusciti a fare un buon lavoro con Thanos Joss Brolin un magistrale lavoro però purtroppo con questo film se è vero che funge questo film funge da freno al Marvel Cinematic Universe in fatto di epicità è un freno soprattutto anche l'avanzata che avevano fatto i produttori cioè Ghost carino il costume ma il personaggio non mi ha detto veramente nulla carina la storia che c'è dietro non me la posso spoilerare adesso perché siamo nella parte non spoiler però non è incisiva a mio parere ha una storia particolare ma non abbastanza da renderla incisiva carismatica secondo me quanto Hela sinceramente non ti lascia niente alla fine certo io spero che il personaggio possa rifarsi vivo in futuro non saprei tutto è possibile in un film sui Thunderbolts in cui magari il generale Ross diventerà Hulk Rosso tornerà a Zemo e forse Ghost appunto ma come finisce il film non so cosa succederà e mi piacerebbe che il personaggio venisse esplorato meglio perché ha una storia ripeto carina ma non abbastanza incisiva poi abbiamo Lawrence Fishburne che interpreta il dottor Bill Foster che in origine doveva essere Goliath dei fumetti su di lui ho anche meno da dire cioè ricopre un ruolo abbastanza importante nella pellicola però io non aspetta a me spoilerarvi ma ringrazio Lawrence Fishburne in un'intervista che ha spoilerato l'andazzo del film cioè veramente io seguo abbastanza con scrupolo le notizie delle nove cinematic universe non me ne lascio sfuggire una però detesto quando gli attori si lasciano sfuggire nelle interviste dettagli importanti sulla trama e infatti se adesso gli attori stanno facendo un casino in mondo con Avengers 4 perché i film di Infinity War e Avengers 4 sono stati girati uno a fianco all'altro in back to back e non non capiscono che quali scene appartengono a Infinity War e quali a Avengers 4 per esempio Gwyneth Paltrow che interpretava Pepper aveva rivelato che gli hanno messo il panciotto da incinta che Pepper sarà incinta e l'ha spoilerato perché pensava che quelle scene fossero in Infinity War difatti le ha smentite subito ecco ma Fishburne purtroppo ha spoilerato una cosa importantissima in un'intervista che io ho dovuto convivere sapendo che sarei andato al cinema e avrei saputo questo dettaglio importante non ve lo svelo ma mi ha rovinato la sorpresa sinceramente non che fosse tutto questo tutta questa cosa difficile da capire era un po' prevedibile ma almeno non avrei voluto saperlo e invece ho dovuto saperlo ma il personaggio di Bill Foster mi aspettavo che combinasse qualcosina di più vista questa rivelazione ma no ci si ferma lì e basta si fa il compitino e basta poi a mia grandissima sorpresa perché datemi dell'imbecile o del cieco non l'avevo notato nei trailer uno dei villain è Walton Goggins o Goggins non mi ricordo ormai come si pronuncia Goggins interpreta Sonny Birch che sarebbe un trafficante più che altro un uomo d'affari e non mi immaginavo che fosse nel film e appare benissimo nel trailer difatti la foto che vi ho appena mostrato per rappresentarlo è una scena che si vede nel trailer ma non l'avevo riconosciuto se vi ricordate Goggins è stato il carcerato di Predators quello con la tuta arancione da carcerato dell'FBI ed era anche Mannings di Dieti Full 8 di Tarantino poi ha fatto anche tantissimi altri lavori però non me ne ricordo al momento e il suo personaggio si è sempre una macchietta perché è un villain però sinceramente l'ho trovato molto più simpatico di Ava Ghost è un personaggio carino a parte che questo ne parlerò dopo ma quando dice una cosa in una certa scena ma ve la posso anche dire perché tanto non è uno spoiler non c'entra con la trama a un certo punto quando fa una telefonata non ho capito bene quale nome ha detto ma mi è suonato così ha detto si Osborn sono io dobbiamo vederci dopo Osborn oppure la Osburn non ho ben capito comunque sembra perché lui è un uomo d'affari vedete un trafficante e vuole vendere una cosa che non vi dico adesso a un trafficante un altro uomo d'affari e quando ho detto Osborn o Osborn ho detto mio dio ma adesso che si avvicina Spider-Man Far From Home non è che hanno introdotto alla lontana Osborn a parte che non sappiamo ancora chi minchia ha comprato la Stark Tower che potrebbe diventare prossimamente Oscorp Tower ma infatti lui dice a un certo punto al cellulare sono io Osborn dobbiamo incontrarci ho detto oh mio dio forse è il cattivo di Spider-Man non ne sono sicuro però spererei tantissimo che fosse lui questi quindi erano i personaggi principali della pellicola ora vorrei parlare invece degli effetti speciali gli effetti speciali come al solito sono di alto livello ma non in alcune scene in alcune scene per esempio quando volano sulle formiche oppure Wasp vola si impiccioliscono ecco gli ho trovato alcuni errori di continuity per esempio uno che si vede anche nel trailer che ho notato e quando ma l'avrete notato sicuramente anche voi quando per esempio c'è il tizio nella cucina che lancia i coltelli lì non dico che la computer grafica sia brutta ma quando lancia il primo coltello a ralenti Wasp lo sfiora cioè lo schiva e un secondo dopo arriva un altro coltello in successione come se li avesse lanciati come flash alla velocità della luce mentre invece la scena è sempre a rallenti lui non può aver logicamente avuto il tempo di tirare tre coltelli al massimo poteva tirarne uno e cambiava inquadratura ed era ancora lì a tirarne fuori un altro però non ci sono alcuni errori di continuity effettivamente altri non me ne vengono in mente adesso ma li ho notati per esempio anche quando appunto volano sulle formiche ci sono errori di CGI abbastanza brutti ma non brutti alla Black Panther che a un certo punto quando saltava e viva inquadrato sul cielo splendente sembrava fatto veramente in computer grafica terribile però devo ammettere che è meglio di quanto mi aspettassi meglio degli effetti speciali del primo Ant-Man e quindi questo era quello che avevo da dire riguardo Ant-Man e Wasp senza fare spoiler adesso però vorrei parlare della parte spoiler e vi avverto appunto che vabbè non vi perdete moltissimo però se non avete visto ancora il film vi prego di spegnere qui il video andavvelo a vedere e tornare prossimamente per vedere le mie impressioni gli spoiler iniziano fra 3 2 1 vorrei iniziare da quello che avevo accennato prima ovvero lo spoiler di Laurence Fishburne Fishburne in un'intervista aveva detto che il personaggio di Bill Foster e Ava ovvero Ghost condividono una specie di rapporto padre e figlia e infatti quello che pensavo anch'io Ghost non sappiamo chi sia ma come ha fatto lei a scoprire chi fosse Hank Pym perché avesse della tecnologia guarda caso l'unico nel film che collaborava precedentemente con Hank Pym era appunto Bill Foster quindi non poteva essere stato che lui a parlare a Ghost della tecnologia del regno quantistico e infatti non era proprio uno spoiler però il fatto che lui mi dica mesi prima che io vada a vedere il film che lui e Ava condividono un rapporto padre e figlia faccio 2 più 2 e capisco che lui è in commutta con la cattiva e infatti è proprio così di fatti quando cercano di riprendersi il palazzo miniaturizzato che contiene le tecnologie entrano in questa villa nei boschi spettrale tipo Scooby Doo perché appunto spettrale perché c'è Ghost dentro quindi hanno fatto il parallelismo ottimamente ecco che vengono storditi tutti da Ghost ed ecco che la figura nell'ombra si rivela essere Bill Foster oh mio dio la storia di Ghost è interessante perché si scopre che c'era un terzo collega di Hank Pym mentre collaborava allo Shield che gli ha rubato i progetti per il tunnel quantistico per entrare nel regno quantico c'è stato un incidente e quindi la famiglia dello scienziato è stata coinvolta tra cui Ava Ava è l'unica che è sopravvissuta difatti non è che la sua tuta le dà il potere lei ha nelle sue cellule il potere ovvero è anche una maledizione perché le sue cellule si spaccano e si ricuciano ogni secondo quindi lei con la tuta può decidere quando farlo ma senza la tuta lei praticamente sarebbe sempre immateriale ovvero che è come un fantasma appunto la tuta serve a stabilizzarla racconta che lo Shield quando non era ancora sotto il controllo di Nick Fury oppure si non mi ricordo l'ha presa per fare degli esperimenti ma Bill Foster è sempre rimasto con lei e sperava appunto che costruendo il tunnel quantico con Hank Pym avrebbe potuto prendere le cellule del regno quantico per stabilizzare Ava ed è questo appunto che serve il laboratorio lei vuole arrivare a Janet Van Dyne che è rimasta tantissimo tempo nel regno quantico quindi ha assorbito energia per estrarle quella energia ignorando il fatto che se le estraesse l'energia al costo della sua vita lei potrebbe morire ovvero Janet potrebbe morire e Ava potrebbe vivere ma a lei non importa di questo sinceramente a lei importa solamente di vivere non importa di Janet e quindi è bello vedere anche qual è il conflitto psicologico però ripeto anche se c'è questa storia meravigliosa a mio parere e anche ben caratterizzata il personaggio di Ava non è incisivo per me non me ne ricorderò nemmeno certo è molto più incisiva di Yellow Jacket il calabrone che era ecco non mi ricordo nemmeno il nome Daryl Cross Ross Daryl Cross sì qualcosa vedete non mi ricordo io che ho una bella memoria non mi ricordo nemmeno il nome del cattivo di Ant-Man perché era ancora più macchietta Ava è un attimino meglio però comunque non è sufficiente penso che tra un mese non mi ricorderò nemmeno di lei e quindi questo è un plot twist abbastanza carino ovvero le sue origini alla fine Hank riesce a riportare Michelle Pfeiffer ormai invecchiata anche lei la nonna di Michelle Pfeiffer riesce a riportarla nel nostro mondo lei riesce con i suoi nuovi poteri a stabilizzare Ghost non so come cioè non so come funziona questa cosa cioè dato che Michelle Pfeiffer ovvero Janet è rimasta tantissimi anni 30 anni dentro il regno quantico ha assorbito energia a tal punto da poterla sfruttare come vuole e quindi lei cura temporaneamente Ghost che è in fin di vita e alla fine Ghost e Bill Foster vengono catturati sembrerebbe e però Michael Douglas e Michelle Pfeiffer vanno a vivere in una casa che hanno costruito rendendo gigantesca una casa e quindi sembra che abbiano l'happy ending mentre invece Scott fa questi separietti comici con un agente dell'FBI simpaticissimo pure lui e si tiene pronto quindi a tornare in azione prossimamente come Ant-Man ma pensate che non ci sia la scena dopo i titoli di coda c'è come guardate ragazzi voglio essere onesto ultimamente le scene post credit mi stanno lasciando parecchio deluso ma non per il fatto di epicità o quant'altro ma più che altro per la logica non so in che modo descriverlo ovvero in Infinity War c'era Captain Marvel che faceva la sua apparizione tra virgolette ovvero dopo che Thanos aveva schioccato le dita difatti Ant-Man e Wasp è ambientato durante gli eventi di Infinity War quando Thanos schioccava le dita tutti quanti iniziavano a scomparire e anche Maria Hill e Nick Fury nella scena post credit iniziavano a scomparire e Nick Fury prendeva questo telecomandino questo palmare che premeva prima di svanire e appariva il simbolo di Captain Marvel ovvero significa che ha allertato Captain Marvel che qualcosa non va e deve intervenire e ora io posso immaginare che Captain Marvel in questi 30 anni visto che il film sarà aumentato negli anni 90 è stata nello spazio ibernata posso solo immaginare però già la scena post credit di Infinity War mi aveva lasciato parecchi dubbi che non avevo esplorato nella recensione ma adesso ve li dirò secondo me è un po' stupido il fatto che venga chiamata Captain Marvel adesso perché allora vuol dire che durante gli avvenimenti del primo Avenger ovvero l'invasione aliena dei Kitauri durante l'invasione di Ultron in Sokovia durante la crisi degli Harry Carrier di Washington in Captain America il soldato d'inverno e durante anche il conflitto che stava per arrivare in Civil War Nick Fury poteva chiamare Captain Marvel e non l'ha mai fatto l'arma overpower no non la usiamo va bene e poi soprattutto mi fa strano mi fa veramente arrabbiare il fatto che dato che loro devono vincere in Avengers 4 la loro vittoria sarà un evento puramente casuale ovvero Thanos quando schiocca le dita ha il 50% di possibilità di cancellare una persona o meno difatti lui non si cura di chi cancella bon 50% della popolazione dell'universo cancellata chiunque quindi mi fa veramente arrabbiare che se gli Avenger vinceranno sarà proprio perché Captain Marvel guarda caso rientrava nella ristretta cerchia di persone fortunate che sono state graziate dallo schiocco e questo già mi lasciava abbastanza arrabbiato il fatto che la vittoria sarà dettata dal caso però anche questa scena post credit sinceramente non fa differenza si scopre che invece di farsi la bella vita Hank e Janet continuano a fare degli esperimenti per salvare Ghost e quindi inviano Ant-Man nel portale quantistico per prendere delle cellule e imbrigliarle dentro queste batterie in modo da darle a Ghost per stabilizzarla quindi lui entra perfettamente dentro il portale e si ritrova nuovamente nel regno quantico gli dicono di non avvicinarsi a certe creature e anche e soprattutto a certi vortici temporali perché altrimenti non potranno salvarlo viaggi nel tempo e quindi il film finisce con Ant-Man che riesce a risucchiare alcune cellule dentro la batteria e dice boh ragazzi adesso tiratemi fuori però nessuno risponde perché perché appunto dato che questo film era ambientato nel mentre di Infinity War lo schlocco delle dita finito il film è appena iniziato e quindi sia Hank Pym che Janet Van Dyne che Hope vengono fatti sparire e quindi Ant-Man rimane bloccato nel regno quantico non venendo cancellato perché come ha detto Hank Pym il regno quantico è in realtà uno spazio tra i regni uno spazio che in realtà esiste ma non esiste quindi è logico pensare che guarda caso Ant-Man è stato salvato è stato graziato perché si trovava nel regno quantico dove la fisica non ha senso lì cioè veramente mi fa abbastanza mandare in bestia il fatto che forse e sottolineo forse la vittoria del quarto film degli Avengers avverrà grazie a eventi puramente casuali non saprei e poi c'è una seconda scena post-credit che ho trovato abbastanza stupida ovvero c'è la formica che che era in casa di Scott che continua a suonare la batteria è abbastanza per i bambini però sinceramente dà degli elementi importanti se si guarda attentamente fuori dalla finestra c'è il silenzio non c'è niente questo vuol dire che lo schiocco delle dita ha veramente dimezzato la popolazione a tal punto che adesso alcune aree sono completamente deserte è effettivamente un po' malinconico ma mi è piaciuto forse quella scena infantile ha rivelato molto più di quanto volesse ebbene ragazzi quindi il mio voto finale è 8 per questo film molto meglio del primo film ci sono alcuni errorini però quale film della Marvel non ne ha ebbene ragazzi questo era tutto per la chiesa specifica di like scusate se ho balbettato un pochino in questa recensione ma sono molto stanco e adesso aspettiamo Captain Marvel che dovrebbe arrivare nel 2019 a presto